1 Il primo album dei Cartoon At Work I Cartoon At Work sono una cartoon cover band del Friuli Venza Giulia nata nel 2011 e voi direte cosa suonano le più belle canzoni dei cartoni anni 70, 80 e 90? 2.1 troveremo ben 21 tracce audio alle quali hanno anche collaborato due grandi artisti Riccardo Zara e Claudio Maioli One è in vendita ad ottobre del 2014 se anche tu lo vuoi ti basta inviare una bella email a cartoon at work chiocciola hotmail.it ed in pochissimo tempo ti verrà recapitata la tua copia di One adesso sei cos'è One se non ce l'hai sei out